e al pallone. Bravo qui Gattabria tagliare il campo attendere il movimento dei compagni e trova l'appoggio laterale su Rizzo poi Lofaso, ancora in area di rigore bella azione di Lofaso il destro di Lofaso sotto misura il raddoppio del Palermo Sulla conquista palla bassa lo vediamo nuovamente protagonista numero 7 Rizzo, palla al centro straordinario il movimento a inserirsi proprio alle spalle di Marchizza dell'attaccante numero 11 Lofaso